Oggi che i risultati possiamo considerare positivi o tutti quanti valutati positivi non mi sento di dire invece che il governo è rafforzato. Io non la penso così, non cambio idea. Un pareggio che fa sorridere il governo si dice soddisfatto dell'esito del voto il presidente del Consiglio Conte della stessa opinione anche Zingaretti per il quale il PD è il primo partito. Matteo Renzi invece difende il risultato di Italia Viva mentre i Cinque Stelle che arrancano alle regionali brindano al referendum sul taglio dei parlamentari. Per quanto riguarda le opposizioni per Salvini la Lega esce bene dalla competizione. Da 13 regioni amministrate come Lega e Centrale Passiamo a 15, 15 a 5 quindi mi sembra chiaro come gli italiani stiano valutando le coalizioni. Esulta la Meloni che con un suo candidato a Quaroli conquista le Marche ma perde in Puglia confitto. Per quanto riguarda la Valle d'Aosta dove si votava per il Consiglio regionale la Lega si conferma primo partito ma per la Presidenza bisogna attendere. Continua lo spoglio per le amministrative coinvolti circa mille comuni a Venezia conferma il primo turno per il sindaco uscente Brugnaro mentre a Mantova successo di Palazzi del centro-sinistra anche Trento al centro-sinistra con Franco Ianeselli mentre a Reggio Calabria si va al ballottaggio.